Ciao a tutti ragazzi da Luffetelig95 Eita e finalmente sono tornato con un nuovo video E in questo video vi farò vedere una mega sorpresa che non vi ho mai fatto vedere Ovvero il mio set nero e bianco destini futuri e nero e bianco esploratori delle tembre Non completamente, non sono proprio completi E vabbè iniziamo, vi faccio vedere Questo iniziamo col set nero e bianco destini futuri Ecco qua, vi faccio vedere tutte Ecco qua Qua mi sembra che mi mancano solo le full art e le shiny Ecco qua Questo è il Reshiram che c'ha un errore di stampa Guardate Non so se si vede sulla telecamera ma questo pezzo sotto è più alto E anche questo A confronto a questo qua Comunque è una carta che vale moltissimo Dove c'è questo errore di stampa Atticoloolo Qua abbiamo qualche reverse Panics holo Churem X Qua deve arrivare il midzap Se non c'è solo questo Continuiamo Zagrom V2 X Ringrazio molto Dark9.8 Guardate Date E anche Firofoenix che la maggior parte me l'ha Date lui Lucariolo Questi continuiamo Continuiamo Eccoci qua Leggi Gigas X Cincinolo E qua iniziamo con le mie due full art Questa non ve l'ho mai fatta vedere E questa vabbè L'avete vista nel TCBM Questa me l'hanno regalata Guardate bellissime Belle 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 Comunque per chi avesse full art e mi contatti Io ho un album pieno di carte da scambiare come potete vedere Ce l'ho proprio pieno 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 di carte da scambio Quindi Contattatemi Se vi serve qualcosa Guardate i midread E iniziamo con il Dark Explorer Ovvero Esplodori delle Tenebre Qua vi mancano solo le X Come potete vedere Bulbasaur Ivisaur Venusa Rolo Continuiamo Continuiamo Entei X Che non scambio Qua non scambio Sui stessi Niente Volcaro Una Olo Qua mi manca Kyogre X Pole Una Olo Qua Rego X Manca Groudon X Qua manca Dark Ray X Che mi deve arrivare Qua Manca Bisharp Che mi deve arrivare E qua vabbè Qua tutta completa La pagina Qua Oxrus E Bisiolo Qua ci deve essere Tornados E poi contattatemi Se avete queste X Che mi mancano E anche se avete Full Art Qua c'ho soltanto Questa Shiny Bellissima Archops E vabbè Questa è la mia Collezione Destini Futuri Esploditori delle Tenerbi Che non vi ho mai Fatto vedere Ragazzi Contattatemi Se avete qualche X O qualcosa Del genere Come potete vedere Io c'ho Un album Pieno Da carte Da scambiare Vedete Ce l'ho proprio Pieno 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 Tutte Olo Bellissime Quindi Se vi serve qualcosa Di queste carte Contattatemi Mi servono X Ve lo ripeto Full Art O esploditori Delle Tenebre E destini futuri Shiny Magari E vabbè Questo video è finito Ciao Da Fede Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Mettete un bel Pollice in su Che non costa niente Ciao Ciao